Vi presento IPT.io per creare dei test con intelligenza artificiale. IPT convertirà automaticamente qualsiasi testo o qualsiasi sito web in un quiz. Crea domande e risposte in base al testo inviato che può essere copiato e incollato in un'app Flashcard o in uno strumento di quiz. Come fare? Copia e incolla il testo delle tue note limitato a 10.000 caratteri o copia e incolla l'indirizzo di una pagina web. Invia e genera domande e risposte. Quindi usa il pulsante di condivisione per condividere il quiz con qualcun altro. Si creano tre quiz gratuiti al mese. Il piano a pagamento costa 2,99 dollari al mese. Nella casella di ricerca di Google scrivete IPT. e il risultato lo ottenete subito con IPT.io e voi cliccherete su questo link, il primo link che vi compare. Vi dovete iscrivere a questo sito con subscribe. Poi scegliete la lingua, nel mio caso scelgo IT. e qui potete incollare il link da cui poi vi darà il quiz oppure incollare un testo sotto, qui sotto. Io incollerò un link a questo sito che adesso vi mostro dal Diogene su Daniel Dennett. nella casella aggiungo il mio indirizzo con CTRL-V e vedete che l'ho incollato e cliccando sulla freccetta mi darà poi le risposte, le domande da poter fare agli studenti. Queste sono le domande che mi ha generato che posso anche correggerle e correggere se non mi soddisfano dove ho studiato Dennett a chi si richiama Dennett in una delle sue argomentazioni eccetera eccetera. Posso, oltre che correggere le domande anche cancellarle queste domande del quiz posso, come vedete, copiarle e quindi ho uno strumento che mi sarà utile da utilizzare per preparare dei quiz.